Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video Lo so che di solito faccio edit video di Karaden Però adesso vi volevo fare un unboxing Oggi mi è arrivato questo pacco E se vedete che ho l'aperto perché avevo fatto un video prima ma per sbaglio si è stoppato Allora, apriamo questa busta, ancora non so cosa c'è No, 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 no Ragazzi, action figure di naruccia Guardate, spiegherò, ve la faccio vedere E' troppo c'è Si possono cambiare le mani, c'è le armi Che poi Questa è la collezione Mi ha preferito ovviamente questo qui Quello che lui Però anche gara Anche gara è bello Questo lì lo chiederò per Natale Anche se ci vuole tanto Kakashi Per Pasqua Cioè questo è per Pasqua Me l'ha regalato mia zia Uzumaki Naruto Sage of the Six Paths Mod Allora, ve li dico tutti qua Uzumaki Naruto Uchika Sasuke Attack Kakashi Uchika Itachi Namikaze Minato Gara Uzumaki Naruto Sage Mod Uzumaki Naruto Sage of the Six Paths Mod E Arunusakura Però ce ne sono altri Perché c'è anche i rock lì Però costa 30 euro Costo 29 Ma a Madonna va La faccia un po' strana Però invece adesso Non ce l'ha più strana Allora Questi sono i cosi Quelli che usava Kamujo Zuzuki mi pare Adesso lo devo aprire Però io me la voglio tenere La busta C'è No Aspetta Vado a prendere una forbice Non mi taglio E' meglio Ah Bobbi E' dove Faci il mio cane Intanto che fa Ho capito Mi pare Che Ah Ah Ok ragazzi Scusate Me l'ha aperto Il camera Me l'ha aperto No Ma io me la volevo tenere La busta Il camera Me l'ha rotto C'è Ok No Se si rompe Mi arrabbio Se si No ragazzi Ragazzi La consistenza No scusate Ma la busta Un po' di sopra La devo rompere Perché Sennò C'è un po' di qua Tanto me la colleziono Lo stesso Perché è sempre Una cosa di Aruto Comunque Voi vi vedete Gli anime Io anche Demon Slayer No No ragazzi È fatto Troppo bene Troppo bene No Se Se Ma non lo riesco A togliere Mi arrabbio Ma c'è No 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 Non lo rompere No Però C'è Ma mi arrabbio Ma c'è Ma mi arrabbio Ma c'è Ma mi arrabbio Dai C'è ma Un'arma 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 Ho preso C'è Mi sembra Che Guardate La busta Oh No C'è Raga No Naruto E queste armi Come si staccano No raga Non c'hanno Consiste C'è Carta E carta C'è No ma Ma che c'è Raga Ma queste cose Stanno Eh aspettate Che metto il telefono Qua perché Come si mette C'ho paura Che lo rompo Non entra il coso Non entra il coso No Aspetta Non entra il coso Qua L'arma di Naruto Allora Queste cose C'è Ho paura che si staccano C'è Perché non so È snodabile Solo che ho paura Che si stacca C'è Che si rompe Perché io C'è Seguo Naruto Tantissimo C'è Me lo vedo ogni giorno Non ditemi come Perché Ho trovato Un metto Raga Le mani Le mani Che poi tipo Sembra una bombetta Quelle bombette di Capodanno Sta consistenza Qua Queste cose Perché è impossibile No Raga Le armi Non riesco a togliere Il pupazzo Comunque Poi vi farò vedere C'è Non so Se farò video Per qualche giorno Perché Tra qualche giorno Devo andare Da mia cugina Che vive lontano C'è Vive a Messina In Sicilia E abito molto più lontano Però Va bene Con la nave Devo prendere C'è Il mio preferito È gara Però Soprattutto Lui No perché Guardate Se zoom Se zoom La sua faccia Qua È tipo Più brutta Invece Mo non è c'è Invece Mo è meno C'è Sono solo Io che ho noto Una differenza Tra le facce Che questa è più brutta E questa è più bella Che poi pure Sage mod C'è Aspetta C'è Guardate La perfezione Degli occhi Sage mod C'è Poi Sasuke Raga Sasuke Ah Mannaglia Ha Stai Mani Qua No Però C'è Impossibile C'è Dai Allora Qua è fatto Tipo Troppo Bene C'è È fatto Troppo Bene Ma c'è Il problema Il problema Che Ste Cosa Non Si Staccano Io Non So Ancora Come Fare C'è Aiutate No Raga No Raga Lo Sto Rompere Ho Paura Che Lo Sto Rompere Vabbè Aspettate Che Stop Un Attimo Il Video Che